Dalla comunicazione alla gestione di strutture ricettive, dalla promozione delle filiere turistiche e attività culturali, alla narrazione dell'esperienza enogastronomica e l'ambiente digitale, sono questi alcuni dei temi al centro dei percorsi biennali di specializzazione post-diploma che partiranno nel mese di ottobre all'Istituto Tecnico Superiore Turismo e Nuove Tecnologie Marche che ha la sede a Fano. L'obiettivo dei corsi, che si svolgeranno in diverse città della regione, è quello di formare professionistico le competenze tecniche più richieste dal mercato del lavoro. Per sei mesi le attività verranno svolte in laboratorio e dopo una pausa estiva di due mesi se ne ripeteranno altri sei direttamente in azienda, a stretto contatto con imprenditori ed esperti del settore. Il titolo di studio finale è il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al quinto livello del quadro europeo delle qualifiche, oltre il 75% dei partecipanti ha trovato lavoro nelle aree coerenti con il percorso svolto. Sul sito dell'Istituto sono già stati pubblicati bandi per le iscrizioni. I corsi sono rivolti a tutti coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria e superiore, disoccupati o inoccupati, che intendono migliorare le proprie competenze oppure inserirsi in un determinato contesto aziendale. Un istituto che si conferma un'eccellenza riconosciuta anche dal Ministero? Sì, il nostro istituto è stato riconosciuto dal Ministero l'ultimo anno con una premialità per un percorso che ha raggiunto delle performance e si è posizionato al primo posto nella graduatoria regionale. Non siamo ancora, però, io vedo sempre la parte critica del nostro lavoro, non siamo ancora un'eccellenza a livello nazionale, quindi siamo invece in quel caso a metà della graduatoria nazionale, quindi noi puntiamo ad arrivare a questo perché non dobbiamo solo essere primi nel tessuto locale. La diffusione dei risultati ottenuti dall'ultimo corso che si è svolto a Fano e la presentazione della nuova programmazione avverrà il 7 ottobre nella sede della Fondazione Carifano tra i progetti. Rientrano poi i laboratori tecnologici avanzati. Sì, il nostro obiettivo è di trovare nella città di Fano una sede prestigiosa che possa rappresentare il nostro istituto, ma soprattutto rappresentare ai giovani questa opportunità in questa città. e poi approfitteremo, come è corretto che sia, del bando del PNRR sulle nuove tecnologie per sviluppare i laboratori attrezzati in ambito turistico, digitale e non solo, che da mettere a disposizione ovviamente dell'ITS ma anche di tutta la città e del tessuto sociale ed economico. Quanti saranno i corsi che partiranno quest'anno e quanti ragazzi potranno partecipare? I corsi che partono quest'anno sono 6, in particolare nella città di Fano ci sarà il corso di Digital Storytelling. I ragazzi possono partecipare, sono un massimo 25, quindi sono 150 studenti per quest'anno che possono partecipare ai percorsi. Ma l'obiettivo che abbiamo, come ci chiede il Ministero, come ci chiede il PNRR, è quello di continuare a sviluppare. Sono gratuiti? I corsi sono completamente gratuiti, come tengo a dire io li paga qualcun altro, che sono finanziati dalla comunità europea tramite il Fondo Sociale e dei fondi ministeriali. Però ai ragazzi gli dico attenzione perché sono fondi pubblici, quindi in sostanza sono soldi che paghiamo tutti e bisogna ben utilizzarli.